Musica 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 Non è appena concludere le partite Il quarto corno Cantigli in Perugia 0 ad 1 Cantiglione del campo 4 Bimbiana 0 Sono entrati in campo Vezia da Giovannese nel campo A1 E in fissa Terra Nova Traiana nel campo A1 Grazie. 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 Bravo Diego. Bravo Diego. Bravo Martina. Bravo Martina. Bravo Martina. Prendi la palla. Dai Andrea. Dai Andrea. Non c'è Andrea. Non c'è Andrea. Non c'è Andrea. Non c'è Andrea. No. Ok. Ma prima. Non c'è Andrea. Ah yeah. Sianni. No. 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 Grazie. 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 Auguri, Carlo. Grazie, grazie. 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 Forza, Tomas. Grazie. 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 Andiamo a piaggio. Sai, è come se tu facessi a leve nel campo. I gruppi sono belli vecchi, quindi è larghissimo. È quasi un quadrato. Un quadrato. Buona ricordo. Dai in due. 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 No. No. Stoppela. Che solo. Dai, ragazzi. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Scusami. Che fai? Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Subito, subito! Vai, dai, dai, dai! Subito, subito. Grazie. 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 Mi metto lì. Mi metto della porta. se lo si è 35 35 Mi scappava, mi scappava, mi scappava, mi scappava, mi basta più guardare queste partite di fare il 35, il 35 è la più strada. Mano, la nostra, la stupata di mano. Non ce l'hai detto, Dami? Tagli, la mano. Manca, bravo, bravo. Manca due minuti. Grazie, Salo. Due minuti. Tira, Dami. Vai, la porta un po' più bassa. Vai, la porta un po' più bassa. Vai, la porta un po' più bassa.